E il solitore ha lasciato tutti, anzi sta guadagnando metri su metri, mentre da dietro si apprestano a farle volate un gruppo allargatissimo su tutta la sede stradale. Attenzione palco, vedete arrivare questo atleta che vince, lasciato tutti, mentre da dietro è già stata lanciata la volata, sono ai 150. Bergomi Marco che vince tranquillamente la sua grande gara oggi, 867 888, Bergomi Marco vincitore qui a Costa Mezzana. E con questo ci apprestiamo a concludere, mancano ancora le premiazioni di queste ultime due gare, attenzione perché ci sono altri atleti che stanno per concludere, dovete attendere sempre l'arrivo del fine gara per potervi muovere o per poter invertire il senso di balza ciclisti, non è corretto?